Siamo alla nono centro di raccolta in città, come sapete l'obiettivo è 10 ma contiamo anche di superarlo. Centro di raccolta in ogni luogo, ogni cittadino sa che può fare la raccolta differenziata e diamo quindi una risposta al territorio ma anche ai cittadini che devo dire stanno sempre di più rispondendo sull'importanza della raccolta differenziata in città. 1500 metri quadrati con platea impermeabilizzata di 400 per il conferimento temporaneo di beni durevoli dismessi come mobili materassi e suppellettili, 200 metri quadrati dove stoccare in spazi ben definiti e debitamente segnalati piccoli rifiuti elettrici ed elettronici, grandi elettrodomestici e ancora inerti sfalci e potatura e vernici, con uno spazio assai significativo dedicato alla raccolta degli oli vegetali esausti da cucina. Il nuovo centro di raccolta di via Nelson Mandela a pianura, nell'area dell'ex polo artigianale, sarà aperto dalle 14 alle 19 tutti i giorni, da lunedì al sabato e i cittadini potranno depositare gratuitamente i rifiuti. Le isole ecologiche sono un presidio operativo ed un modo per sviluppare la coscienza ecologica sul territorio, radicare la cultura della raccolta differenziata e prevenire i fenomeni di abbandono incontrollato dei rifiuti. È veramente un messaggio importante, avere un luogo fisico in cui ci sono i posti dove poter portare gli ingombranti, l'asse di vetro, tutti i rifiuti che spesso purtroppo vediamo abbandonati in città, anche questo è un messaggio fisico importante e fondamentale per ogni quartiere. Un altro risultato raggiunto con uno sforzo importante, straordinario e di grande competenza e professionalità di Asia, che sempre in condizioni economiche che non sono mai floride della nostra città e delle nostre società partecipate, ma non rinunciamo agli obiettivi strategici che ci siamo dati. Mi siamo contenti perché questo è stato anche un territorio per anni attraversato da sversamenti illeciti, illegali, da comportamenti assolutamente deplorevoli da parte di una minoranza che però era una ferita importante per Pianura. Oggi c'è la possibilità di venire qui ogni giorno, conferire ogni tipo di rifiuto e quindi dal giro che avete fatto vi vedete che gli ingombranti che talvolta si vedevano nelle strade di Pianura, oggi ci auguriamo verranno tutti depositate in questa isola ecologica. Prossimo obiettivo la decima, isola ecologica e questo era uno degli obiettivi strategici che ci eravamo dati per Asia.